Io con la prima squadra ogni anno va meglio, ogni anno va meglio, sono contento perché ci sono alcune ragazze che andranno a fare allenamento con la prima squadra, alcune ragazze della prima squadra se c'è bisogno hanno l'età per portare l'anno 19, quindi abbiamo già parlato tra noi allenatori e direttore sportivo il da farsi e poi sicuramente ne avremo ancora per parlarne e vedere, io sono contento se qualcuno d'anno 19 va in prima squadra, ci vediamo che abbiamo fatto un buon lavoro.